e ciao a tutti e bentornati nel mio canale grazie mille di cui erano iscritti e finalmente oggi facciamo questo video in collaborazione con Yves Rocher che è un marchio maraviglioso e soprattutto naturale che c'è da tanti tantissimi anni che penso che tutti conosciate. Allora Yves Rocher è un brand conosciutissimo nasce nel 1930 quindi comunque un brand che ha più di 60 anni che è sul mercato quindi stiamo parlando di prodotti che appunto se sono andati avanti tutti questi anni sono degli ottimi prodotti parliamo di prodotti conosciutissimi di cosmetici per la cura della pelle della persona che comunque sono quasi del tutto naturali perché Yves Rocher comunque chiamato anche mondo verde ha un ottimo inci, un'ottima etichetta dietro il prodotto usando appunto prodotti di origine naturale o vegetale. Vorrei soffermarmi e sottolineare il fatto che hanno un buon inci perché utilizzano prodotti naturali e di origine vegetale e questa è una cosa ragazze importantissima perché appunto non troviamo schifezze all'interno del prodotto è tutto naturale, hanno delle profumazioni meravigliose e sono prodotti validissimi ma penso che molte di voi li conoscano e appunto non sto parlando di una marca sconosciuta ma Yves Rocher che è conosciutissima nel mercato appunto da più di 60 anni. Io posso affermare che avendoli utilizzati comunque nel tempo ed essendomi anche documentata visto che dovevo fare questo video e dovevano mandarmi questo pacco che sono prodotti assolutamente fantastici, fanno il loro degno lavoro per chi vuole dei prodotti affidabili Yves Rocher è il brand giusto perché comunque non solo hanno un riguardo della pelle e della persona, del consumatore ma anche comunque dell'ambiente e questa a mio avviso che sono un'amica degli animali un'amica del pianeta e della natura è una cosa meravigliosa ma comunque bande le ciance e io non vedo l'ora di aprire questo pacco quindi vado a prendere il mio pacco Allora noi non vediamo l'ora di aprire questo meraviglioso pacco che ci è arrivato Yves Rocher del mondo verde Gabri insieme a me non vede l'ora, non è vero? Che vuoi aprire il pacco? Sì! E quindi ci sono dei trucchi Ci sono dei trucchi e delle creme dentro quindi vado subito ad aprire il pacco perché ragazza ce l'ho a casa da due giorni e veramente non vedo l'ora di aprirlo Io sto tantissimo Aspetta, così insieme a me Aspetta Vediamo cosa c'è dentro di C'è un paio di trucchi e non so che cosa Che paio di trucchi ci sa Vediamo se riusciamo così Siamo un po' più grande Oh! Strappa la carta! Strappa la carta! Sono più forte di me! Wow! E allora Questo qui è il nostro Lo mettiamo dietro E abbiamo Guarda quante cose che abri Facciamole vedere Sì! Aspetta Ci sono tantissime cose Tantissime cose Secondo cosa c'è Cominciamo subito Qui abbiamo Un burro cacao Questo va a lenire comunque le labbra È un idratante Un burro cacao Idratante Targato Ibrochet Cosa c'è scritto? 98% ingredienti naturali Basta Molabbra Certo Ingredienti sempre naturali Per Ibrochet Poi Andiamo avanti Questo qua è uno Shampoo Anticaduta di nuovo Anticaduta Shampoo fortificante Un shampoo anticaduta Ed è questo qui Amore Spostati un pochino più in là Così io mi metto al centro Dell'inquadratura E allora Questo qua C'è scritto Che È una formula Senza solfati Che rallenta la caduta Perché ha telipotti E pieni di vitalità Contiene Oltre il 96% Di ingredienti Di origine naturale E questo è molto importante E applicare Sui casetti bagnati E massaggiare il cuoio capelluto Con movimenti circolari Per due minuti E poi Risciacquare Ed è questo qui Shampoo fortificante Anticaduta Quasi del tutto Con ingredienti Naturali Ragazze E poi Andiamo avanti Anche questo qui È un'anticaduta E questo è il balsamo Il balsamo Fortificante Che va abbinato Allo shampoo Ovviamente Ma si possono utilizzare Anche comunque Separatamente E questo qua Ci dice Raddoppia La microcircolazione Del bulbo Bulbo Perfettamente Nutrito Fantastico Va a nutrire Proprio il bulbo Dei capelli Quindi Meraviglioso E sempre comunque Quasi del tutto Naturale Vegetale Poi Poi Scegli tu Questo qua Questo qua Questo qua Cos'è Questa è una maschera gel Purificante Fantastica Queste io le adoro Soprattutto perché Ho la pelle grassa E perché Ho la pelle mista Grasso Come me Queste maschere Purificanti Sono la fine del mondo E i brochè Comunque È una garanzia Ragazze E lo sapete È un marchio Che conoscono Quasi tutti E allora È una maschera Una maschera gel Purificante Con menta peperita bio Fantastica E vediamo dietro Cosa ci dice È Da applicare Due volte la settimana Dieci minuti Di posa Per poi Eliminare L'eccedente Con un dischetto Di cotone Umido Quindi comunque È facilissimo Da applicare Da risciacquare E poi Scegli tu Siediti Questa qua È Crema Idratante Mani Wow La confezione È molto carina Guardate Con tutte queste Margheritine gialle Che comunque Già ci ricordano La natura E che sono Prodotti Naturali Pur Armica Crema Idratante Per le mani E allora Dietro ci dice 93% Di ingredienti Di origine naturale Anche lei Applicare Sulle mani In ogni momento Della giornata Ed ogni volta Che si desidera Testato sotto controllo Dermatologico Fantastica Questa qui La cremina Per le mani Idratante E super naturale È bellissima È bellissima È bellissima Sieli tu Sieli forza Siediti Questo qua è Un gel concentrato Un gel doccia Concentrato Alla vaniglia Adoro Il profumo della vaniglia È buono Il profumo della vaniglia Amore È dolce E allora Che cosa ci dice Gel doccia Concentrato Alla vaniglia Risciacquare Abbondantemente E niente Tutto qua Comunque Sempre Origine Vegetale Comunque naturale E questa volta Scelgo io Posso scegliere io? No scelgo io Perché sono più bravo È più bravo Allora Scegli tu forza Questo Questo Ok Siediti Allora Sempre purment Questo qua È Un detergente Scrub Antipunti Nei di tre in uno Favoloso Ragazze È pure bello È bellissimo Amore Questo qua E io lo indusso pure io Lo vuoi mettere anche tu Amore mia Ma tu c'hai la pelle di pesca Per te la dermatite atopica E comunque Ricordiamo anche questo Che sono prodotti Prodotti Sì sono per adulti Sono prodotti naturali Che comunque Certe creme Possono essere usate Anche comunque Sui bambini Mio figlio ad esempio Soffri di dermatite atopica E posso andare ad utilizzare Una crema Comunque i brochè Perché sono naturali Deterge E spoglie E purifica la pelle Delicatamente Senza seccarla Purifica i pori E riduce i punti neri Applicare la mattina e sera Sul viso inumidito Massaggiare E risciacquare E non applicare Sulla pelle irritata O danneggiata Vabbè ma questo comunque Si capisce bene Se una deve andare a fare È uno scrub Che non va applicato Sulla pelle danneggiata O irritata Formula testata Sotto controllo Dermatologico E questo qua È lo scrub 3 in 1 Guardate che carina La confezione È piccolina Ma larga Comunque c'è Quanti ml di prodotto? 125 ml di prodotto E poi Stavolta scegli tu? Sì Cosa scegli? Questi qua No amore Cosa scegli? Questa qua Questo cubo Questo cubo Wow Questo cubo Che cos'è? E questo cubo È una crema Dalla textura Fresca e leggera Restringe i pori Ah ragazze Questa la proverò sicuramente Perché io Purtroppo Da ragazzina Ho avuto l'acne Molto pesante E mi sono rimasti I pori Comunque dilatati In viso Quindi Questa è una crema Dalla textura Fresca e leggera Restringe i pori Opacizza E affina La grana Della pelle Meraviglioso Nel corso Della giornata La pelle È idratata Giorno dopo giorno La pelle risulta Maggiormente Riequilibrata E da fare Più bella Eh sì È molto bella È molto bella Questa qua 91% Di ingredienti Di origine naturale 91% Ragazze Cioè siamo quasi Al 100% 0% Di olio Fantastica Perché come me Comunque la pelle Mi sto grassa E ha i pori dilatati Allora la confezione È questa qui Spero che si veda bene E poi cos'altro ci dice Che altre informazioni ci dà I nostri ricercatori Cosmetic vegetale Hanno selezionato La polvere di tè Boreale Riequilibrante Che agisce in profondità Per contenere L'effetto lucido Ah ma questa qua Sarà stupenda Ragazze Io che combatto Sempre A cercare di mantenere Un aspetto opaco Alla mia pelle Che è sempre lucida Questa qua la provo Di sicuro Neutralizzare Le imperfezioni E affinare la grana Della pelle Applicare mattina e sera Su tutto il viso Evitando il contorno Degli occhi È ovvio O comunque La pelle irritata Eccola qua Sebo vegetale Gabri dove sei? Ecco Gel crema Zero difetti Ecco il suo nome Gel crema Zero difetti Origine comunque Sempre naturale E adesso Cosa scegli? Questo qui È per i capelli Ed è Un'antirottura Eccolo qua E questa è la confezione Carina anche lei E allora Che cosa ci dice? Con fruttati Di agave Per riattivare La microcircolazione Nel cui ho capelluto Wow Ehm Cosa è questo qui? C'è il simbolo del fondo In 230 gradi Un attimino Che voglio capire Allora Andiamo dietro Andiamo a vedere dietro Allora Applicare tre volte La settimana Sui capelli Asciutti O umidi Non risciacquare Quindi non si risciacqua In caso di condotto Con gli occhi Risciacquare Ok Ed è 98% Di ingredienti Di origine naturale Cemento Termoprotector A 230 gradi Ah ok Adesso ho capito Questo qua Serve per Proteggere i capelli Dalle alte temperature È stupenda questa cosa Comunque Foam Piastre Tutti questi aggiaggi Che ci vanno a rovinare i capelli E questa qui La sua boccetta Di questo siero E stavolta Scelgo io E io scelgo Questo qua Che mi piace tantissimo La confezione Ho la confezione Già solo a guardarla Con questi bei fiori Che sempre ci ricordano La natura E allora Questa qua È Credo che sia Un siero corpo Che cos'è? Ha stacco profumata Stavolta scelgo io E prendo questa qui Che ha questa confezione Così carina Che mi ha attirato Con questi bei fiorellini Non so se riuscite a inquadrarli E allora Questa qua Un'acqua corpo Profumata Questa qua Voglio aprirla Mi adora per me Aspetta Allora La sfruzzo su di te Sì Adora Profumo? Sì Profumo È detto da un bambino È il profumo di fiori Profumo di fiori Ragazzi È detto da un bambino Che comunque Hanno l'innocenza E dicono sempre la verità Mamma mia È il profumo di fiori È il profumo di fiori E allora Questa qua Appunto È un'acqua Profumata Per il corpo Fantastica Mamma mia Fa un odore spettacolare Ragazze Poi comunque Tutti questi prodotti Trovate nell'info box Il catalogo Irochè E potrete andarli A visionare uno per uno A leggere bene La descrizione E potete anche andare Ad acquistarli Mettendoli nel carrello E usufruendo Del codice sconto Allora E poi cosa c'è Sceglie lui Wow È caduto Questo che cosa Lo sai? È È smalto Non è smalto Questo qua Bellissimo mascara Questo qua È un Mascara Quello che mette Nelle ciglia La mamma Questo qua È un fantastico Mascara Ed è un mascara Effetto Volumizzante Andiamo un attimo Ad aprirlo Per vedere Lo scopolino Io sono sempre Interessata Gli scopolini Ed è questo qui Il proprio Effetto Volume Spero che La videocamera Riesca Di inquadrare Questo è Lo scopolino Ok Mascara Effetto Volume Sempre appunto Potrete andare A guardare La descrizione Nell'info box Nel link Che vi lascio Nell'info box Scelgo io Scelgo lui Cosa scelgo Per ultimo È questo Questa è una matita È una matita Nera Per occhi sensibili Per pelli sensibili Quindi comunque Adatta A tutte quelle persone Quelle donne Che hanno Problemi di lacrimazione Agli occhi O comunque Di irritazione Hanno gli occhi sensibili Quindi fantastica Una matita Per occhi sensibili Eccola qua Ci metto la manina Magari si vede meglio Ok La matitina E poi scegli io E poi scegli tu Sembra infinito Il controllo Di questo pacco È infinito Quante belle cose Questo è un gel doccio Concentrato Wow Allora Vediamo cosa ci dice Al mango Ah Lo odoriamo Gabriele? Sì Sì Non ci sono Odoriamolo Non so che il gusto è Al mango A me mi piace il mango Mamma mia ragazza Mamma mia Allora Allora Sizzato Ma faceva ad ora Almeno Mi mi ha spruzzato Ad ora Non spruzza più Com'è? Bello il gusto mango Bello il gusto mango Ok E' un po' per no Oh Ti sono già Sizzato È un gel doccio Appunto Concentrato Con questo profumo Intenso di mango Sempre Sempre Naturale Tutto naturale Appunto È un mondo verde A quello del libro chef E questa qui È la sua boccettina E allora Abbiamo poi queste qua Che sono dei campioncini Che sono Dei campioncini Di crema notte È questa qui Ce ne erano cinque E questa qui Ci dice Per tutti i tipi di pelle Applicare la sera Ecco qua Crema notte Sempre Naturale È una bolla nostra Sì amore Si mette la sera Prima di andare a letto Io Me la metto pure Va bene Tanto è naturale Tanto è naturale È pure mia sorella Tutta la famiglia Ho mandato Gabri di là Perché all'inizio del video Vi avevamo detto Questo è il mio Lasciandolo da parte E questo qua È un set relax Appunto È il mio Non volevo nemmeno farlo vedere Perché magari Poi lo prendo per gioco È morbidissimo È stupendo Questo immagino Che era dentro Il po' qui brochet Veramente carinissimo Voglio provarlo Come sta ragazze Ok E questa qui La fascetta Bello Bello Veramente morbidissimo E questo qua È mio C'è altro C'è forse La sua sacca Sì Dove andarlo a riporre Molto Molto carina Guardate Stropicciata Con il marchio Della Yves Rocher E adesso Potrete andare Comunque in info box Giù in info box Dove troverete Il catalogo Yves Rocher Da lì potrete accedere Guardare Tutti i prodottini Che vi interessano Le descrizioni C'è comunque In alto a destra Il carrello Potrete aggiungere Potrete togliere Potrete fare Quello che volete E potrete ordinare I vostri prodotti Che arriveranno Direttamente a casa vostra Però c'è bisogno Di un passaggio In quanto Quando andrete A fare Quest'ordine Dovete comunicarmelo Tramite il sito Yves Rocher Nel mio profilo Instagram E comunque Da me Partirà Quest'ordine Che Dove poi I prodotti Verranno consegnati A casa vostra Ecco Non mi veniva La parola Perché comunque Io non sono Una rappresentante Yves Rocher Non sono Una capogruppo Yves Rocher Quindi comunque Un mondo Tutto nuovo Per me Io ho fatto Questo video Solamente Perché comunque Adoro i prodotti Yves Rocher Della loro validità Di quanto Hanno un buon inci E sono dei prodotti Fantastici E il mio video Era finalizzato Solamente a questo Poi Se siete interessate A qualcosa Ovviamente Devo lasciarvi In infobox Il catalogo Da dove potete Andare ad attingere O comunque Se avete Una rappresentante Yves Rocher Nelle vostre vicinanze Ecco Potrete ordinare Da lei Tutto qui Ragazzi Io spero Che il video Vi sia piaciuto Mi metto in mano I miei prodottini Non vedo l'ora Di andarvi a provare Uno per uno Ma ci tenevo Ad aprire il pacco Insieme a voi Ma so già Che sono Fantastici E comunque Naturali E questo è molto Molto importante E vi mando Un grosso bacio Se il video Vi è piaciuto Non dimenticate Di lasciarmi Un pollice in su E di farmi Sapere Nei commenti Che cosa Ne pensate Se voi Conoscete La linea Yves Rocher Se avete usato I prodotti Se comunque Siete intenzionate Ad acquistare Qualcosa Insomma Fatemi sapere Nei commenti E poi Per chi è nuovo Se la tipologia Di video Vi è piaciuta Non dimenticate Di iscrivervi Al canale E di attivare La campanella Per non perdere I prossimi video Io vi mando Un grosso bacio E ciao Ciao